Il tango che ho cantato prima era un cavallo di battaglia di lui e questo signore, questo cantante si chiamava Roberto Gocenece, il polacco Gocenece. Allora io mi sono permesso di scrivere questa area di tango che si chiama Un altro bicchiere maestro, cioè che con questo grano voglio brindare e voglio un po' ritornare a questa ultima svolgna insieme con lui. Per questo mentre sogniamo, per chi non lo conosce a lui lo vedrà e le fotografie che Mariana manderà in contemporanea con noi. Un, due, tre, quattro 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 Un, due, tre Un, due, tre Un, due, tre